Stiamo vomitando dopo la presentazione, tutti i suoi televisioni, la quale condivisione avete rovinato una rete generazione, nessuna venerazione, vicino a ripresione ha problemi, siete un mato ovelli, c'è sopra la reddi, proteccati i reddi noi sono palcoscenici, con grassi e gremi, nel master show abbiamo dei copi con carne di castro, quasi non salte stai cambi nel castro ne ideia da che poi non cade l'aldad, ci manglerà per noi capis che per un caso for poco a boca y se la tocca tocca, andiamo quando la libera le acompa nel cuore con me e le bocca, centimetò questo alle bocca in frasche e non so dorado, ti ho saw porrado, quando sono tornato found animalia ma è da digna negli anni, non Kloppiamo, raccontorato tutte le persone,בizziamo,stubatu tira tip, suta, vieniata, dai che cosa coordinate vieni che la chip parte della gama super and 늘 disaster, l'一定 che dicono Grazie a tutti. Grazie a tutti.